Siamo a San Piedarena, nella centralissima piazza Modena, alle nostre spalle il teatro d'archivolto, il prestigioso teatro Modena, un tempio della cultura riconosciuto da tutti. Oggi parleremo di cultura, di culturale, però insomma adesso aperte gli scherzi, intanto salutiamo Gianfranco Anguzzi, presidente dell'Officine San Piedalenese, cultura e circoli culturali. Questo sarà il tema della nostra inchiesta, abbiamo voluto qui con noi Gianfranco Anguzzi, presidente dell'Officine San Piedalenese, in tanti anni che esiste questo problema dei circoli culturali a San Piedarena, in molti se ne sono occupati, però onestamente le officine San Piedalenese sono quelle che hanno poi preparato un dossier, hanno affrontato in termini di numeri, di situazioni e di tutto quello che andremo tra poco a raccontare. Però insomma cultura e circoli culturali, Anguzzi, c'entrano poco? No, niente, assolutamente niente, sono locali dove si potrebbe dire si fa un ampio spaccio di prodotti alcolici e anche qualcos'altro. Insomma quindi con la cultura è poco a che fare, adesso entreremo un po' nel vivo della situazione. Voi come Officine San Piedalenese avete preparato un dossier che poi avete arricchito negli anni, ahi no, insomma dicono i cittadini di San Piedalenese perché vuol dire che insomma il problema c'è, persiste. Facciamo un po' un primo punto, una mappa, poi scenderemo anche nel dettaglio. Noi veramente abbiamo aggiornato questa mappa, facevo mente locale questa mattina, abbiamo incontrato su questi argomenti due prefetti, tre questori, il sindaco, la giunta, due audizioni in consiglio comunale. Oltre ovviamente alla compagnia dei carabinieri e al commissariato di Conigliano che in qualche misura hanno retto botta a questi problemi. Devo dire che i risultati sono stati sconfortanti. Qui siamo ancora sulle premesse, poi arriveremo, però entriamo un po' nel dettaglio. Intanto di che cosa, lo spieghiamo un po' a chi magari non fosse molto a conoscenza. Sono così detti, qualcuno potrebbe dire, sedicenti circoli culturali ma in buona sostanza. Lo spieghiamo in due parole, insomma, per far capire a chi magari non conosce bene addentro questo problema. Allora, le procedure nazionali sono le seguenti. Questi pseudo circoli si affigliano ad un'associazione accreditata presso il Ministero degli Interni, hanno questa iscrizione e in base a questa procedura possono accedere alla richiesta attraverso la scia della licenza di somministrare prodotti alcolici, bevande e altre cose. Quindi è una cosa abbastanza semplice come procedura, che parte da un presupposto di diritto costituzionale all'associazionismo, si accede a queste associazioni che probabilmente hanno come scopo di lucro soltanto iscrivere queste realtà per guadagnarci delle tessere, questo è poi in sostanza le cose, hanno uno statuto, nessuno verifica se viene rispettato, questi fanno quello che vogliono e in teoria diventano, ripeto, momenti di diciamo... Adesso ci arriviamo perché poi entriamo ancora nel dettaglio. Andiamo un po' sul territorio. Sostanzialmente questo tipo di locali, insomma, questo tipo di circoli culturali, noi chiamiamo come vengono chiamati, sul territorio sanpia d'Arenese, dove sono a grandi linee ubicate? Diamo un po' una mappa. Direi che, allora, poi lo vediamo nel dettaglio dopo, sono tre fenomeni, quello dei minimarket che quindi generano, diciamo così, il bivacco nelle nostre piazze, lo riprendiamo. Poi c'è un altro fenomeno che sono i locali commerciali, che dovrebbero... alcuni c'è scritto fuori, bar, ristorante, pub. Io credo che nella loro vita non abbiano mai servito un piatto di minestra ai tavoli. E poi ci sono i circoli culturali. La mappa di questi circoli culturali parte, diciamo, dalla realtà del campasso, quindi prevalentemente ce n'erano in via Cavere, poi è stato chiuso. Ora il punto più critico è via Tavani e piazza Marnata, e poi si sale, si sale fino ad arrivare, diciamo così, via San Piero d'Arena, via Buranello alla parte alta, via Pietro Chiesa e piazza Barabino. Poi ha alcune realtà, tipo il Tigre in via Dottesio, altre, tipo qua dove c'è proprio di fronte, adesso è chiuso di fronte alla Croce d'Oro. Quindi è una mappa molto dettagliata che abbiamo sempre tenuto aggiornato e consegnato a tutti. Quindi insomma, se qualcuno volesse conoscere questa realtà dei circoli culturali, in questa prima parte della nostra inchiesta abbiamo affrontato proprio la questione dei circoli culturali, nella seconda parte della nostra inchiesta entreremo ancora nel dettaglio, affronteremo gli altri problemi, ma soprattutto seguitici, perché vi diremo anche chi sono, come dire, chi rilascia questo tipo di tessere, chi facilita questo tipo di attività. Continuate a seguire la nostra inchiesta sui circoli culturali, ma non solo a San Piero d'Arena. Grazie a tutti.